Non so con chi passerete questa sera di Natale, non so come passerete questi giorni e queste ore, però sono qui per stare un po' con voi, per offrirvi la mia amicizia, per offrirmi a voi come padre, fratello, sostegno. Aiuto, è la notte della nascita di Gesù e quindi è la notte che ci ricorda l'inizio della nostra redenzione. Gesù vuole entrare nei nostri cuori, Gesù chiede un po' di spazio nella nostra vita, ma Gesù ci viene a dire che la nostra vita con Lui ha un significato e un senso diverso. E allora ti auguro di poter sperimentare questa notte e ogni giorno Gesù nella tua vita, nel tuo cuore. Vogliamo cantare a Gesù bambino insieme. Astro del cielo, pargo il divino, Mite agnello redentor, tu che i vati dai lungi sogna, Tu che angeli che voci annuncia, Luce dona alle menti, Pace infondi nei cuori, Luce dona alle menti, Pace infondi nei cuori, Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io vi leggo questa preghiera e voi mettetela nel cuore. Grazie.